Valzer di avvicendamenti ai vertici di molte forze dell'ordine a Fano in attesa dell'ufficialità del nuovo comandante della polizia locale Anarita Montagna vincitrice di concorso che fino ad ora assieme all'altro vice comandante Alessandro Di Quirico ha tenuto le reddini del corpo e l'arrivo del nuovo comandante della compagnia carabinieri di Fano fissato per lunedì prossimo oggi è stato il giorno della capitaneria di Porto. Da oggi appunto l'ufficio circondagliare marittimo fanese ha un nuovo comandante il tenente di vascello Giancarlo Alessandro Castellana 34 anni anche lui al primo comando proveniente dalla direzione marittima romana dopo essere stato nella difficile realtà di Gioia Tauro. Sicuramente ci sarà continuità con il lavoro fin qui svolto quindi diciamo proseguizione sul solco già tracciato dal comandante Iasella per il crescente sviluppo della realtà portuale. Le aspettative sono altissime, l'equipaggio è ben motivato, molto molto preparato e veramente ragazzi instancabili e io metterò la massima passione ed edizione e l'attenzione affinché appunto vi sia un continuo dialogo e confronto con tutti gli operatori portuali. Clara Iasella lascia così dopo 25 mesi di comando per andare ad Ancona. Due anni che hanno formato il suo carattere e messo alla prova le sue professionalità. Infatti dopo appena nove mesi dal suo insediamento dovete affrontare assieme al suo equipaggio la dura prova dell'emergenza bomba portata a termine con successo dalla Marina Militare Italiana. Quello che mi porto via sono tante soddisfazioni per quello che ho ricevuto dal mio personale, tante tantissime e anche dalla cittadinanza fanese. Quindi vado via lasciando un pezzo di cuore ma sicuramente cercherò di mantenere i contatti diciamo con quella che è stata la mia seconda casa. Gli uffici circondariali sono una importante palestra per gli ufficiali del corpo che devono applicare quanto ha preso nei sei anni di accademia. Ma tutto questo sarebbe ancora più difficoltoso se non potessero contare sullo spirito di corpo che unisce tutti gli uomini e le donne in servizio e di gradi superiori come i comandi provinciali. I comandanti che si avvicendano hanno una traccia da seguire e qui su Fano devo dire che sono molto soddisfatto sia dei comandanti che si sono avvicendati sia della risposta della città perché è un segno tangibile del riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi anni.